Non temete, non sono stato sequestrato e l'unico motivo di questo video messaggio è quello di farvi gli auguri di buon Natale, di buon anno, a nome di tutta Radio Victoria, a nome mio personale e del maresciallo Perotto. È stato un anno di grandi soddisfazioni, è stato anche un anno complicato sotto il profilo economico anche per Radio Victoria. Questo è il motivo per il quale vi invitiamo davvero, se ci volete bene, ad aiutarci facendoci tanta pubblicità nei contatti e fra gli amici che avete intorno. Quindi ancora grazie per averci ascoltato quest'anno e mi raccomando ci risentiamo qui su Radio Victoria. Fly with us!